buongiorno a tutti siamo in compagnia del mister della prima squadra riccardo boschetto benvenuto ciao allora è trascorso più di un mese dall'inizio della preparazione della prima squadra alcuni amichevoli allenamenti congiunti una partita di coppa italia però diciamo che i punti iniziano a contare da domenica come ti sembra che sia andata questa preparazione direi benissimo benissimo abbiamo fortunatamente abbiamo avuto pochissimi problemi a livello di infortuni muscolari purtroppo nell'ultima amichevole ci è venuto si è fatto male il bomber si è fatto male francesco che è l'unica nota dolente voglio dire di questo di questa prima parte di stagione quindi sono contento abbiamo lavorato molto bene la squadra mentalizzato molto bene il lavoro e quindi buon periodo ecco infatti volevo proprio arrivare a parlare di giardis ritieni che col suo infortunio sia necessario qualche correttivo oppure si può proseguire con questa rosa no abbiamo già parlato con la società che già al lavoro evidentemente purtroppo sarà anche un'assenza relativamente lunga perché diciamo che si parla di due mesi ci auguriamo che sia meno però nel reparto avanzato siamo siamo corti avevamo puntato molto sul bomber che aveva tra l'altro fatto un ottimo lavoro l'ha recuperato si è fatto male proprio purtroppo a borgano dove oltremodo aveva segnato e dava segni di grandissima ripresa purtroppo però nel calcio capita e al bomber che ci starà di fianco in tutto questo periodo auguriamo di rimettersi quanto prima e la società chiaramente si muoverà per vedere di trovare una figura che ci possa venire a dare una mano come punta centrale ecco tra l'altro una squadra molto giovane molto piena di under come pensi che si possa bilanciare l'inesperienza tra virgolette degli under rispetto appunto a una squadra di età più avanzata non dobbiamo bilanciare nulla nel senso per cui è stata una scelta di campo decisa programmata con la società pensiamo che in questo momento storico di asti ci sia bisogno di una squadra giovane rizzante motivata giovani che si vogliono affermare in una piazza tra l'altro importante con tifo con pubblico con seguito quindi migliore occasione per loro di venire in una piazza ambiziosa e fare bene crediamo di aver provato giocatori giovani forti under come si suol dire chiaramente sappiamo che sconteremo da una parte un problema di inesperienza ma dall'altro pensiamo di avere entusiasmo dinamicità voglia di affermarsi che dovrà fare pari all'eventuale mancanza di un po' di esperienza quindi possiamo dire che sei soddisfatto di questo gruppo? io sono fortemente soddisfatto era il disegno che ci eravamo proposti a voce ferma e poi normalmente purtroppo il mercato lo conosciamo tutti non sempre riescono le cose per quello che si prospetta o si programma devo dire invece che la società e il direttore in questo hanno fatto un ottimo lavoro mi ha diciamo accontentato ma non è un problema di accontentare perché abbiamo scandagliato veramente tanti giocatori però sostanzialmente alla fine abbiamo concluso di costruire una squadra volevamo costruire una squadra di questo tipo ribadisco a oggi è incompleta nel senso per cui abbiamo una problematica seria perché comunque il terminale d'attacco manca però se siamo stati abili a fare abili ribadisco non tanto io quanto la società abile a costruire questo tipo di discorso sono convinto che completerà l'opera trovando l'attaccante che questa squadra serve un'ultima domanda mister domani alle ore 15 allo stadio Luigi Forlano lo stresa ed essendo una squadra neopromossa c'è sempre questa leggera difficoltà poiché ci si trova ad affrontare una squadra con grande entusiasmo dovuto alla promozione come pensi che possa essere affrontata una partita del genere? una partita difficilissima probabilmente nelle scelte se potevo scegliere non prendevo una neopromossa ricordo Lasti l'anno scorso quel che riuscì a fare la Novara da neopromossa ragazzi lo sanno siamo preparati anche a questo noi proprio per la struttura che ci siamo dati per squadra non dobbiamo accontentarci dobbiamo avere l'umiltà ma anche un pizzico di presunzione di poter andare a vincere in qualsiasi tipo di campo mettendo in campo la nostra identità non sarà facile ribadisco la prima partita come neopromossa è la peggiore partita possibile però non vediamo l'ora di iniziare è un bel banco di prova vediamo se abbiamo lavorato bene dove abbiamo qualche deficienza se dobbiamo lavorare in qualche direzione piuttosto che in qualche altra ma abbiamo l'entusiasmo giusto per iniziare mister ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto il campionato ti ringrazio io faccio un grande in bocca al lupo all'Asti in generale e soprattutto ai nostri tifosi sperando che ci seguano numerosi ti ringrazio io faccio un grande in bocca al lupo all'Asti in generale e soprattutto ai nostri tifosi